sono con manzoni vincitore del titolo italiano sprint ischietti qui a skillpario risultato a sorpresa perché è arrivato davanti a davide grazie sono una bella soddisfazione per te si bellissima direi perché era da tanto che pensavo questa gara e che mi allenavo in funzione proprio di questa e quindi vedere che tutto è andato è andato bene è stato un grande sollievo per me puoi descriverci un po la gara si è subito in partenza davide ha messo ha messo gara molto dura e io mi sono posizionato subito sulle sue code e così è stato fino al fino all'arrivo dove nel tratto di gambe mi sentivo molto bene e la curva nella volata sono riuscito a fare una bella volata che che diciamo è uno dei punti su cui mi sento meglio e quindi quindi no è andato tutto per il verso giusto molto bello mi è piaciuto anche un po il fair play tra voi sul sul podio si vede che c'è un bel legame no tra voi atleti della nazionale under 20 sì siamo molto amici comunque ci conosciamo da tanto e secondo me è molto più bello così come ambiente che che magari avere quella cattiveria di dire a lui è andato meglio no invece così no dai siamo tutti molto contenti quando gli altri vanno bene e viceversa trovarsi poi a gareggiare con davide che comunque ha già esordito in coppa del mondo è anche riuscito a superare le qualificazioni quindi entrare nelle batterie in una gara di coppa del mondo ecco quanto è importante per voi quanto vi motiva anche trovarlo lì si è un grande punto di riferimento di scusa di riferimento per noi e cioè lo è sempre stato diciamo e quindi vedere come sta andando la sua carriera e noi che comunque ci battagliamo sempre non siamo ogni tanto siamo abbastanza vicini direi che è una bella motivazione anche per noi dai all'ultima cosa già belle soddisfazioni anche quest'anno in opa cup junior arrivata questa vittoria adesso stai pensando ora che supera questa già al mondiale di over visenta ma sì e no diciamo sto pensando a qualificarmi per il mondiale diciamo e poi una volta lì cercherò come sempre di fare il mio meglio se se dovesse arrivare ciao 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 ciao